Il mondo del calcio Il mondo del calcio Il mondo del calcio Il mondo del calcio Poi ho vinto un camminato di serie C con il Cosenza Dalla C alla B Poi ho fatto una finale di Coppitali con il Napoli Ho fatto un piazzamento in UEFA Ho preso due seminatori d'oro Ma le gioie e il piacere della San Feliciano Come gruppo Che eravamo agli inizi propri E sono rimasti indelebili Siamo qua Allora, quando mi hanno invitato quelli del Catania Altri ex giocatori del Napoli A fare delle feste Io sono stato presente solo con la San Feliciano Perché c'è un rapporto particolare Un rapporto di amore E allora quando c'è l'amore E c'è la stima La consapevolezza di fare certe cose Con la spontaneità Con la naturalezza Senza interesse Allora questo è una vittoria più bella Cosa si prova a ritrovare un amico dopo tanto tempo? Ok, hai detto giusta la parola Amico E questo qua vale per tutto Noi Hai parlato della San Feliciano Cosa che lui ti aveva spiegato tecnicamente Com'era la cosa Noi Quando cercavamo di Di vederci Sembrava mille anni che non andavamo al campo sportivo Perché era un'aggregazione Non solo Una squadra che tecnicamente era quella che era Ma era quella che noi cercavamo Perché ci volevamo bella La prima cosa Lui aveva fatto così Un gruppo che effettivamente È andato avanti E oggi si rivede a distanza Di 50 anni Che oggi stiamo ancora insieme Stiamo ancora Come amore Come bene Come ci vogliamo Che dovrebbe essere questo qua per tutti Per tutte le società Perché volersi bene non costa niente Segretario Ricci Una battuta su Gianni Di Marzio Cosa ci può dire? Ma innanzitutto una grande emozione Poi ritrovarsi con Gianni E ancora di più Ci sentiamo quotidianamente C'è un ricordo di 40 anni 50 anni fa Un altro po' E siamo stati agli inizi insieme C'era un gruppo affiatatissimo E un grande ricordo Gianni è stato un grande mister Ma soprattutto un grande amico E un grande uomo Pasquale Pasquale è d'obbligo Passare la parola a te Per poi parlare col presidente Mister Di Marzio Tu meglio di noi Conosci come allenatore Conosci come opinionista Conosci un pochino come tutto E soprattutto come collega tecnico Che dà Gianni Di Marzio? Ma innanzitutto Io ho una grande ammirazione Per Di Marzio Perché è uno che si è fatto da Da niente Da zero Lui ha detto una cosa Importantissima prima Cioè riuscire a allenare due squadre Per arrivare La dice lunga Di cosa Che capacità aveva Di coordinarsi Di voler arrivare Quindi L'ho sempre visto una persona Da Io per esempio Che sono un tipo molto Poco Su queste cose sono poco Capace Però Lui ho sempre visto una persona Che ha cercato in tutti i modi Di voler arrivare Con grande intelligenza Che con grande competenza Ha studiato È diventato Uno degli opinionisti O altro che allenatore Una bravissima allenatore Come lui ha ricordato prima Che tutti lo sanno È diventato anche Uno dei migliori opinionisti In circolazione Quando si parla di calcio Quindi Grande merito Quindi la stima è infinita Ma a prescindere dai momenti Però mi piace dire Che io sono diventato Attraverso loro Un giocatore aggiunto Alla San Feliciano Perché ormai Sono tutti segreti Fra tutte le scene Che abbiamo fatto Tutti segreti Gli aneddoti Della San Feliciano Compreso il grande Acquisto Dell'allenatore Di Marzio Che era voluto Anche da questi giovani Juliano E Ricci E mi hanno raccontato Un sacco di cose Di cose strane Insomma divertenti E quindi sono contento Di partecipare Soprattutto a queste A queste A queste Reunioni conviviali Perché Veramente Si vede Quello che diceva Vincenzo L'affetto Che i giocatori Hanno per il proprio allenatore Cosa che raramente succede In qualsiasi posto C'è la prescindere Della categoria Però c'è questo affetto Che rimane Sempre forte Anche quando non c'è il mister Posso testimoniare Nei loro pensieri Sempre quando arriva Gianni Quando chiamiamo Gianni Lo vogliamo portare Proprio loro vivono Per quei momenti Che a volte Per poter stare un po' Col mister Ovviamente la cosa E lo ringrazio il mister Perché ha fatto una cosa Da pochi Molti si dimenticano Soprattutto dei ragazzi Diciamo Delle categorie un po' inferiori Invece lui Come ha detto prima Li tiene sempre in testa Al primo posto Diciamo che più che il club bianco verde È diventato un ritrovo di giocatori e allenatori Di uno spessore grandissimo Però una domanda d'obbligo la dobbiamo fare per il club bianco verde Gianni Di Marzio Cosa rappresenta oggi In questo club bianco verde Che è sulla bocca di tutti Perché è il primo in Valle Caudina E soprattutto è da 78 Che sta diventando grande E ora lo è ancora di più Perché finalmente si è data una costituzione Cosa rappresenta Gianni Di Marzio oggi? Io quando sono stato interpellato Dai ragazzi del club Luvirpini Valle Caudina Ho detto Dovete dare anche uno sbocco culturale All'attività di circolo Io per Natale vi porto Gianni Di Marzio Hanno fatto festa allora E oggi festeggiamo ulteriormente quella Ma lui non lo vuole dire Qui ognuno di questi personaggi Aveva delle caratteristiche Se avessero giocato oggi Erano i nedved della situazione Il caso suo Che uno a vederlo con i cappellini in testa Dice ma è possibile che giocava a calcio? Questo era rapido Tecnico Aggressivo Puntava all'avversario Lo so E' la verità E' la verità Dice ma è possibile che giocava a calcio? Dice ma è possibile che giocava a calcio? Dice ma è possibile che giocava a calcio? Dice ma è possibile che giocava a calcio?